Il mio nome è Marco Taddini, sono il Presidente del Departamento di Inhab, il principale servizio italiano per i servizi di comunicazione. Nel prossimo slido, cercherò di dare una visione rapida sull'integrazione di metodata e informazione in ATC. Quando abbiamo iniziato la nostra attività di integrazione di metodata in ATC, la perspectiva dell'ATM operazione era che i controlli devono essere soddisfatti di informazioni semplici come come un'attività di Tandestrom in mattina o un'attività di metodata in mattina. Questo è per dire che è la stessa informazione che i servizi sono utilizzati a reportare in ATC. Ma noi sappiamo che i controlli necessitano più. Anche l'altra parte, il punto di vista della controlli dell'ATM operazione è che a un forecaster è racconta se il fogo risponde a 5.30 o a 6 e non a 5.45 in maniera, o se e a quando ci saranno una tandestrom in quali livello informazioni più simili a un esoterico briefing esoterico briefing il problema era che c'era un gap tra i metti e i tenni era molto difficile informazioni in una forma che sia insuutabile per operazioni specialmente in terminal areas Controllers non sono stati 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 con i prodotti come i segment che il format non è considerato così dettagli e anche alcuni prodotti hanno non la possibilità di usare immediatamente l'attività quindi essendo all'interno l'attività italiana l'attività abbiamo cercato di rispondere a alcuni di queste questioni in modo molto pratico prima di tutto abbiamo cambiato il nostro metaforcasting center all'interno dell'attività all'attività con i manageri Romano e Milano per essere in contatto con le necessità poi abbiamo iniziato iniziato a implementare un sistema di metaforcasting con l'attività per migliorare i dati in tavola e in approcci operazioni l'attività l'attività quando abbiamo iniziato l'attività era migliorare l'attività per l'attività non solo in i port ma anche in terminal areas per l'attività per l'attività e in per l'attività 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 con l'attività con l'attività tecniche non controlli tecnosky un nuovo metaforz collezione data e produzione report in un miner o un miner il sistema è composto da 4 subsystemi questo sistema è chiamato Inavavos e è composto da Amos un RBR system e un sistema e un sistema che è similato metaforz che costumano per l'attività per l'attività di un'attività che sono un'attività di un'attività di un'attività di un'attività si può vedere il layout di un'attività dove le dati sono collezioni e presenti ma qui si può vedere il layout che era designato da un'attività come vediamo il nostro controllo ha deciso di avere un monitor come possibile solo reale data come vediamo che preferano avere un monitor dei sensori e non le local report messaggio ma vediamo che la filosofia in design è che non abbia più informazioni aggiungere informazioni che possono aggiungere informazioni o usare caratteri aggiungere informazioni possibili che possibili dati che sono realmente relevant per operazioni poi gli osservati dati sono dai meteorologi non anche producci classica report ma anche managere data per produrare informazioni per operazioni operazioni in terminal are nostri support per operazioni in operazioni per operazioni per risolvere la necessità di regolazione per operazioni per operazioni specifiche per registrare fenomeno avversi avversi fenomeni specialmente quando è relato con CD o DCO la nostra filosofia è che proattività sia più che reagire dopo il bad è presente altro che abbiamo esercitato usare l'unica operazione del nostro controller quindi riportiamo la posizione di fenomeno usiamo come referenza non classica geografica come west nord south ma alcuni punti usati controlli operazioni di operazioni che abbiamo usato in 2009 chiamato che era definita con controllers per operazioni più 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 più